L'informazione in 60 secondi, intensificata l'attività di controllo a mare nel Golfo di Napoli nel weekend a parte delle forze dell'ordine, 125 diportisti multati, sequestrato un natante. Controlli anche nel mare del Regno di Nettuno, la Guardia Costiera ha sanzionato 44 diportisti. Turismo sull'isola di Ischia, nelle giornate da venerdì a domenica sono transitati nei porti di Ischia, Casamici e Forio oltre 47 mila passeggeri e un totale di 2.800 veicoli. Domani martedì a mezzogiorno il prefetto di Napoli sarà a Capri e presiderà una riunione sulla tematica dell'emergenza idrica sull'isola. Sempre domani martedì alle 18 presso la sala consigliare del Comune di Capri si interrà la presentazione del libro del collega Marco Altore, la regina del Mediterraneo, Napoli e la mostra d'oltremare. E' tutto, alla prossima!